Samuel Stern numero 27, il quinto comandamento, non uccidere. Ragazzi, qui si parla di un tema molto caldo di nuovo, si parla di malattia di nuovo, si parla di eutanasia. Ma devo dire che Guglielmino la tocca in modo davvero delicato. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Samuel Stern, bentornati nella rubrica Fumetti. Sono felice di parlare di nuovo con voi di Samuel Stern, serie regolare, al momento non ha extra, tranne i numeri che escono in libreria, che tra l'altro trovate anche qui sotto nei miei link Amazon. Oggi parlerò con voi appunto del numero 27 di Andrea Guglielmino alla storia e, scusatemi, Anna Paola Martello, non mi ricordavo il nome, Anna Paola Martello ai disegni, alle chine, alle tavole. Due note editoriali che di solito non dico mai, ci tengo a dirle. Andrea Guglielmino, già autore di Samuel Stern numero 8, il secondo girone, che è uno dei miei preferiti, della mia top 3 di Samuel Stern. E mentre Anna Paola Martello ha già disegnato per il numero 10 l'altro inferno, che era scritto niente po' di meno che da Massimiliano Filadoro himself. Ci tengo anche a dire che Andrea Guglielmino è attualmente fuori, diciamo, in vendita, non in edicola ma in fumetteria, suppongo, e se c'è il link Amazon ve lo metto anche qua sotto in descrizione, con Garibaldi vs. Zombie, disegnato da Fabrizio De Fabritis e edito da M3 Edizioni. Se non sapete chi è Fabrizio De Fabritis, non lo associate ai disegni, vi ricordo che è il disegnatore di Guardiani Italiani, il disegnatore di Capitan Nova. Dato uno sguardo al suo tratto, ai suoi colori, vi accorgerete che è spettacolare. Nulla da invidiare ai disegnatori dei comics americani. Vi dico tutto questo perché spero, con ogni probabilità, di fare una live sul mio canale Twitch con Andrea Guglielmino in cui parleremo un po' di tutti questi numeri. E a proposito di questo, vi ricordo appunto, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete un bel mi piace o non mi piace a questo video anche a tutti gli altri, che ve frega, condividete il video con tutte le persone che possono essere toccate da questo tema molto caldo e commentate qui sotto con quello che viene parso di questo numero. Iscrivetevi appunto anche agli altri miei social, tra cui Instagram, per rimanere aggiornato su tutto quello che faccio e quando lo faccio fuori da YouTube e Twitch appunto per seguire le live che da quest'anno saranno quasi esclusivamente su Twitch, tranne appunto dove sarò io ospite di altri canali, lì non decido io, ma cercherò di fare le mie live esclusivamente su Twitch per dare un po' di vigore anche a Twitch. iscrivetevi anche lì, è gratuito ovviamente, non c'è bisogno di pagare nulla, se ci fosse bisogno di dirlo sappiatelo. Nella mia ingenuità, nella mia stupidità, nella mia assenza di hype per qualunque cosa, perché sono morto dentro, no sto scherzando, però nel senso non ho naturalmente una grande hype per qualunque cosa, non mi ero informato, non ho neanche molto tempo onestamente di informarmi su quello che adoro leggere, aspetto che arrivi in edicola. Non avevo collegato, stupidamente, al fatto che il quinto comandamento è non uccidere, nonostante io lo sappia a memoria per indottrinamento religioso, ovviamente siamo tutti cresciuti in un ambiente cattolico comunque, e quindi nonostante io sappia che il quinto comandamento è non uccidere, non ho collegato al fatto che il numero potesse parlare appunto di omicidio. Non ho saputo nemmeno che era questo il numero di Andrea Guglielmino, perché mi aveva detto guarda che scriverò un altro numero di Samuel Stern, non pensavo fosse già questo. Con mio sommo stupore in senso positivo ho notato che il tema della non uccisione è legato a doppio filo con il tema anche della scelta di concludere la propria vita quando si è in condizioni come quelle di Jerome, il protagonista di questa storia. Jerome Lannister, amico non troppo, diciamo, amico di vecchia data, amico di un'altra vita, di Duncan, che appunto in passato è rimasto coinvolto in una, diciamo, in una sparatoria, in una manifestazione sempre per l'Irlanda libera, per appunto per le lotte che c'erano con l'Ira e la polizia inglese, che appunto non voleva che l'Irlanda del Nord fosse indipendente, ed era rimasto sulla sedia a rotelle per tantissimo tempo e successivamente negli ultimi anni le sue condizioni si sono anche aggravate, portandolo da una condizione di paraplegia, cioè da non avere l'uso delle gambe, a una condizione di tetraplegia, cioè non avere neanche l'uso delle braccia, tant'è che lo vediamo dipingere, dal momento che lui ha un passato di artista, lo vediamo ormai dipingere con la bocca, facendo anche dei quadri discretamente belli, per quello che si può intendere, perché sono comunque quadri all'interno di un disegno, però sembra un bravo artista, e continua a dipingere con la bocca. Chiaramente il numero si apre senza troppe mezze misure. Jerome sta discutendo con Duncan, con padre Duncan, sul fatto che vuole morire, vuole scegliere di non vivere più in questa condizione. Ha chiesto al governo scozzese per l'eutanasia. Immancabile il paragone con altre case editrici che hanno già trattato questo tema, che ha fatto molto discutere, che è stato sui giornali, ha fatto molto parlare di sé, se, ovviamente mi sto riferendo a Mater Morbi, se Mater Morbi ha trattato del tema dell'eutanasia per tutto il tempo, tenendo sempre sul filo del rasoio questo argomento senza mai esplicitarlo, qua invece viene esplicitato subito, nelle prime 10-15 pagine, senza troppi fronzoli, senza troppi problemi, si va diretti al punto, per poi spostare l'attenzione di questo grosso problema su un altro livello, il livello soprannaturale, che fondamentalmente serve a darci tutta un'altra prospettiva su questo argomento, e aprirci la mente, aprir la mente a chiunque la pensi in qualunque modo, diciamo, ci sposta proprio il piano su un'altra prospettiva. L'altra prospettiva qual è? Quella che il povero Jerome, ovviamente, dopo una vita del genere, sviluppa un'ombra, sviluppa un demone. Questo demone, chiaramente, grazie appunto alla forza soprannaturale intrinseca, gli permette di nuovo di camminare con le proprie gambe, addirittura lo vediamo avere di nuovo un'agilità di un atleta, lo vediamo contorcersi quasi sia come un contorsionista, ma anche per citare un po' la camminata strana dell'esorcista, io ci ho notato anche quello nelle contorsioni a molto agili di Jerome una volta che è stato posseduto. Il piano venne spostato su questo aspetto, appunto, sovrannaturale, perché fondamentalmente il nuovo Jerome pare voglia vivere, ma in realtà è il demone, non è Jerome che vuole vivere, è il demonio all'interno di Jerome che vuole vivere, perché chiaramente lo sappiamo, tutti i demoni vogliono continuare a vivere all'interno del proprio ospitante, del proprio ospite, appunto per evitare di morire e finire in legione. Ma cosa vuole davvero Jerome? E qua si sposta il piano proprio sul fatto che Jerome, in assenza del demone, chiede una morte dignitosa. Con il demone vuole invece vivere, e anche tutto l'aspetto, diciamo, religioso dell'eutanasia rappresentato da padre Duncan viene sovvertito dal fatto che padre Duncan non vuole che Jerome viva a causa del demone. Padre Duncan chiaramente vuole che viva nonostante il demone, quindi vuole che viva agonizzante in un letto, perché comunque è questo il volere della sua religione, il volere di Dio. Samuel Stern invece è combattuto ancora in un altro modo. Samuel Stern lo abbiamo già visto entrare in varie sfumature di grigio negli ultimi numeri. Samuel Stern, soprattutto anche dopo aver parlato con la fanaticità di Isobele, degli angeli che ci sono sulla Terra, si rende conto di quanto a volte la possessione demoniaca non sia perennemente un male. Lo abbiamo visto nel numero 3, lo abbiamo visto nel numero 6. Inizia a pensare di lasciare nel corpo di Jerome questo demone, perché questo demone lo fa vivere autonomamente, non lo fa dipendere dagli infermieri, dalla propria figlia. Il punto è che nessuno ha ancora sentito il parere del vero Jerome, perché non si capisce bene se Jerome ha il controllo su questo demone. Finalmente, più o meno a metà della storia, Jerome si fa sentire. Questo può essere anche un parallelismo con quelle persone che sono incastrate tra la vita e la morte e non possono nemmeno essere interpellate, fondamentalmente, come Jerome, finché non si sforza di prevaricare sul proprio demone e si mostra come anche la scelta di Jerome, un Jerome scevro dalla possessione demoniaca, vuole continuare su quella che era la sua intenzione precedente. Dice a Samuel e a padre Duncan, anche alla figlia se non sbaglio, non è questa la scelta che voglio io. Sto passando da una prigione, una prigione in cui il mio corpo non rispondeva più, a un'altra prigione in cui il mio corpo è comandato da qualcun altro, da questo demone. Non voglio nulla di tutto ciò. Io, l'ho detto prima, lo dico adesso, voglio morire. E quindi, anche grazie a, diciamo, a questo contributo sincero di Jerome, padre Duncan convince Samuel Stern a esorcizzare Jerome. Come sappiamo, dopo Abisco è cambiato tutto, quindi anche Samuel Stern, quando va in contatto con Jerome, non vede più l'origine del demone, ma ha un po' visto, diciamo, tutta la vita di Jerome e scopriamo cosa è realmente accaduto durante quella manifestazione, durante quella sparatoria, quell'attentato. Jerome si era defilato dalla manifestazione per provocare un attentato in un bar, ma questo attentato, di questo attentato si è pentito quasi subito perché si è reso conto che questo bar era molto vicino a una scuola e questa, la possibilità di far del male a dei bambini, cosa che poi è successa, se non sbaglio, sono rimasti morti i tre bambini, la possibilità di far del male a dei bambini gli ha ricordato il suo fratellino che ha perso sempre durante una manifestazione, quando era molto piccolo. E quindi questa cosa, questo avvenimento gli ha creato la sua ombra. La sua ombra che paradossalmente, quando viene, quando è sviluppata, quando è un demone completo e viene estirpato dal corpo di Jerome, ha l'aspetto fondamentalmente di un neonato, di un bambino, di un feto enorme che vuole vivere. Io ci ho trovato anche un po' una sorta di, non lo so, una vaga assonanza anche all'aborto, in questo caso, con questo strano aspetto molto fetale del demone. Anche perché questo demone per tutto il tempo, fino a quando non si sviluppa proprio all'esterno del corpo di Jerome, continua a dire noi proteggiamo la vita, proteggiamo la vita, e ha questo aspetto di un feto. E quando padre Duncan lo, finalmente si decide a esorcizzare col rito classico cattolico, Jerome, vediamo il demone che ormai era all'esterno del corpo di Jerome, affievolirsi sempre di più fino a scomparire. Tra l'altro la posizione dell'autore, della Bugs, adesso che dir si voglia, non saprei dirvelo, sull'eutanasia, è volutamente tenuta in sospensione, non ci dà un'opinione secca, ci fa capire che l'importante è essere umani, oltre alle proprie credenze, oltre alle proprie convinzioni politiche, religiose, è questione di umanità. E vediamo che anche padre Duncan nel finale, nel finale un po' aperto, diciamo, può essere un padre Duncan che assiste Jerome fino alla fine, oppure può essere un padre Duncan che offre da bere a Jerome, ma noi non sappiamo all'interno di questo whisky, di questa bevanda che offre a Jerome, non sappiamo se padre Duncan ha messo il cianuro di potassio che aveva, diciamo, sequestrato alla figlia all'inizio del numero, quindi non sappiamo se è un padre Duncan che va oltre le proprie credenze religiose per asservire al desiderio di un vecchio amico che ne ha passate tante, che ha finalmente assolto alla fine del numero e che quindi, non lo so, lo ritiene degno di andare in paradiso, o se decide semplicemente di assisterlo fino alla fine dei propri giorni. Questo non ci è dato saperlo, non vediamo assolutamente che padre Duncan adultera il contenuto della bottiglia, è una cosa che si può supporre come non si può supporre. Scrivetemi voi cosa avete dedotto dal finale di questa storia, sono molto curioso di sapere come l'avete interpretata. Un'ultima nota sui disegni, ecco, i disegni devo dire che in alcuni momenti io non ho capito alcuni passaggi, le tavole sono molto classiche, ci sono dei passaggi come se saltasse una scena fondamentalmente, questa cosa mi ha un po'... non mi ha fatto capire bene alcune cose, l'ho notato all'inizio, quando... vediamo, ve lo faccio vedere su... ve lo faccio vedere, ve lo dico subito. Ecco, non si capisce bene come... da dove parte il colpo di pistola, ma forse anche alla luce del fatto che è una cosa immaginata, che poi alla fine vediamo essere diversa, e invece alla fine, quando Samuel e Duncan passano, diciamo, la notte a riflettere su cosa fare di Jerome, il mattino dopo, Jerome si vuole buttare dalla finestra, o comunque non si sa bene cosa sta facendo, e viene salvato da padre Duncan, però non si capisce bene, cioè, il fatto che padre Duncan sia lì in quel momento, sia appena arrivato, sembra che quel passaggio notturno non sia avvenuto, perché nella scena prima erano ancora nella stanza con Samuel. Quindi, un paio di passaggi confusi, ma in generale comunque nulla da dire sui disegni, che sono sempre molto, molto belli. Ecco, la barba di Samuel Stern a questo giro non è tra le mie preferite, diciamo, gli toglie un pochino di espressività. Tutto lì, con concluso la mia opinione su questo numero, sicuramente ne parleremo anche in live, fatemi sapere appunto voi qua sotto cosa ne pensate, io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, e vi dico, arrivederci al prossimo numero.